vedete che il nostro super pilota al primo speed stop a chilometro 42 con meno 8 con un buon prodotto riesce ad abbattere tutto ciò che è sul parabrezza vedete vedete a meno 8 niente nessuno si può fermare com'è la temperatura? vedete che a differenza di molte zone italiche in questa zona qui tutta la notte hanno sversato sale e è possibile circolare benissimo a differenza di altre zone in altre parti d'Europa quindi la viabilità bancanica di Slovenia e Croazia è molto buona meno 7 cielo azzurrissimo, destinazione fungera, arrivederci